Ciao a tutti ragazzi, io sono Captain Ned e ben ritrovati qui su Chuck e Azione. Dunque, oggi vi parlerò dei film, delle pellicole più attese del 2023, perché dopo questo favolosissimo antipasto a fine 2022, parlando di Avatar, ci immergiamo così nel nuovo anno con delle pellicole molto affascinanti. Iniziamo subito. Direi che sia molto doveroso iniziare a parlare quasi subito del Marvel Cinematic Universe, dato che i suoi film fanno molto incasso a livello di botteghino. Ebbene, uscirà Ant-Man and the Wasp Quantum Mania, film molto atteso, perché comunque si vedrà il nuovo cattivo della nuova fase essere introdotto da tutti i punti di vista. Sto parlando di Kang il Conquistatore, poi è la terza pellicola del nostro uomo che si rimpicciolisce e ingrandisce allo stesso tempo, quindi si presume succeda un po' di casino. Ma non meno atteso è l'altro film, sto parlando di Guardiani della Galassia 3, perché il nostro James Gunn, prima di dare le dimissioni della Marvel e infilarsi nella DC, ci arriveremo dopo, ha deciso di sfornare questo suo ultimo capitolo dell'MCU. Anche qui c'è un po' di casotto, perché essendo il terzo di una trilogia, chissà cosa può succedere, e quindi è molto atteso. Un po' meno atteso invece è The Marvels, perché la nostra Brie Larson, nei fanni di Captain Marvel, in questo suo sequel, sarà accompagnata anche da altre due persone. Sto parlando di Monica Rambeau e di Miss Marvel. La prima l'abbiamo trovata nella serie WandaVision, mentre la seconda ha avuto una serie su Disney Plus a sé stante. Questa attrice purtroppo non è molto acclamata dai fan, però spero che con questo trio nel suo sequel riesca ad avere un po' più successo. E sempre a tema Marvel uscirà, però, dalla Sony, il film Kraven, il Cacciatore, che non so dove andrà a parare, dato che le ultime pellicole della Sony hanno un po' fatto tribrezzo. Sto parlando di Morbius, dei due Venom... È un po' un casotto, diciamo, quello che viene fuori dalla Sony, però chi lo sa come andrà a finire. Entrando in casa DC, nel 2023 usciranno vari film, poi con il casino che è successo con Henry Cavill, che prima ce lo fanno tornare in Black Adam, i film con The Rock, quindi facendo riaccendere il lume del ritorno di Superman, e poi James Gunn prende in mano la situazione e ci fa fuori tutti. Però comunque quest'anno usciranno dei film del DC Extended Universe, che usciranno e finiranno allo stesso tempo. Sto parlando di Shazam 2, che nonostante tutto il primo Shazam era anche molto bello, Zachary Levi ci sta molto nei panni del protagonista. Poi uscirà Aquaman 2 e Regno Perduto, che nonostante sia un bel film nel complesso, di solito ha molti difettucci. Il primo mi era piaciucchiato, vediamo il secondo come andrà. Ma il film più atteso della DC del nuovo anno sarà The Flash, sempre interpretato da Ezra Miller e diretto da Andy Muschietti. Si dice che compariranno anche il Batman di Affleck, ritornerà il Batman di Keaton, e ci sarà un po' un capovolgimento di quello che sarà l'universo. Quindi penso che ci sarà una cosa di presente, futuro, varianti e tutto il resto. Però un pochino mi attira pure a me, quindi spero che comunque riaccenda un po' il bagliore che già si stava spegnendo con l'arrivo di James Gunn. E proseguendo, è il caso che io vi parli anche di altri film molto attesi, che però saranno adattati a dei videogiochi, che sono invece Super Mario Bros, che ragazzi sarà un bellissimo adattamento del gioco, non so se avete mai giocato al Nintendo 64, c'era il gioco Super Mario Bros, e riguardando il trailer di questo film è una cosa veramente stupenda. Un po' meno il film su Dungeons & Dragons, che nonostante sia il gioco più famoso del mondo a livello globale, non so quanto successo avrà, perché gli adattamenti di questo genere di solito non è che abbiano un gran successo. Però chi lo sa, Prima di vederlo meglio non giudicare. E altro film d'animazione che probabilmente avrà un grandissimo successo, che gran parte delle persone aspettano, è Spider-Man Across the Spider-Verse, il cartone animato sequel del primo con Miles Morales, che se vi ricordate aveva anche vinto il premio come miglior film d'animazione agli ultimi Oscar che ci sono stati, insomma quando è uscito forse un paio di anni fa. Proseguendo con i registi di alto rilievo nel cinema, abbiamo il film Oppenheimer di Christopher Nolan, immagino quanto sarà intripposo, dato che il regista ha una fama riguardo l'intrippo. Poi abbiamo Scorsese con Killers of the Flower Moon, molto curioso di vedere questo film, sarò. Abbiamo poi Ponarski con The Palace, e anche il nostro Woody Allen che prova a sfornarci in un certo Wasp 22, e ne vedremo delle belle probabilmente con questi film. Per non parlare che ora a gennaio uscirà pure Chazelle, il suo film, che sarà Babylon, che già dal trailer è molto intrigante, abbiamo una Margot Robbie, un Brad Pitt, e addirittura un Tobey Maguire, che fanno impazzire già dallo spot. Chi lo sa. E se pensavate che la lista fosse già finita qui, mi spiace molto, ma così non è. Quindi rimanete comodi, perché vi devo anche aggiungere film alla lista, non molto atteso, però hanno fatto vari successi in precedenza, sono anche i sequel di Transformers, che ritornerà anche in un'altra pellicola, di cui non sappiamo ancora molto. Diabolic 3, che nonostante il primo e il secondo non abbiano fatto un grande successo, forse per l'adattamento un po' troppo fedele al fumetto, senza le dovute caratteristiche di una pellicola cinematografica, ma più di un fumetto, torna con questo terzo capitolo di Fratelli Magnetti, che comunque vorranno concludere la loro trilogia in un qual modo simile al fumetto riguardo al nostro personaggio. Ci sarà la seconda parte di Dune, se vi ricordate bene, quel fantastico adattamento con Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa e molti altri, che ha fatto un grandissimo successo. L'unica cosa, magari facciamolo durare un po' meno, ci sarà John Wick 4, quindi le scazzottate non mancheranno nemmeno in questo nuovo anno. E poi anche il Mission Impossible, che il nostro Tom Cruise vuole giocarsi ancora tutto per tutto la sua fisicità, nonostante sia anche lo stunt di quel film, e vuole proseguire la sua saga, di cui è molto innamorato. La Disney Pixar invece ci proverà con un nuovo film d'animazione, tenterà di vincere un nuovo premio con Elemental, un film che si baserà ovviamente sull'elementare. Uscirà poi il film di Barbie con Ryan Gosling e Margot Robbie, non so cosa aspettarmi da questa pellicola, spero solo che vada tutto bene. E poi anche ritenterà di far tornare sulla cresta dell'onda la sua saga, il nostro Harrison Ford. Sto parlando di Indiana Jones, con il film Indiana Jones e la ruota del tempo, che se vi ricordate bene, i primi tre film suoi erano andati molto bene. Poi è uscito il quarto, il Regno del Tesco e Cristallo, e... Purtroppo il nostro indie si era calato in un percorso oscuro di critiche. Quindi, che dire, il 2023 è pienissimo di film, di cui sono molto curioso di vedere come va. Spero vada bene per molti, spero che non vada malissimo per altri. Mi dispiace molto a livello di cinecomics, come potete vedere qui dietro, sono un po' un amante. Mi dispiace molto per la DC, mi dispiace molto per Henry Cavill, però spero che comunque quest'anno se la giochino molto bene molti film per competere agli Oscar o eventuali Golden Globe o premi vari. Quindi, dai ragazzi, vediamo un po' cosa riuscite a sfornare. Un in bocca al lupo per i film che usciranno. E niente, io da Ciaccazione vi saluto e ci rivedremo presto a un prossimo video. Ciao a tutti!